Scontro tra due aerei ultraleggeri questa mattina sulla pista di decollo dell'aviosuperficie di Palazzolo nel comune di Sansepolcro. Un uomo è rimasto gravemente ferito alla gamba. Si tratta di un pilota con esperienza di lavoro anche per Alitalia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. Il freno a motore di un ultraleggero in manutenzione, per cause ancora in corso di accertamento, si è disinserito. Il veivolo a bordo del quale erano presenti due persone è così entrato sulla pista, venendo in contatto con un altro ultraleggero, a bordo del quale si trovavano un allievo e il suo istruttore, Carlo Giulie, 59enne, originario di Gubbio ed ex pilota Alitalia. L'impatto è stato tutt'altro che violento, ma le eliche in movimento dei due veivoli hanno colpito due dei quattro passeggeri. Ad avere la peggio è stato l'istruttore 59enne, che è stato portato al CTO di Firenze in codice rosso con numerose fratture particolarmente gravi. Quella è una gamba che all'arrivo dei soccorsi si presentava come semiamputata. Nell'abitacolo, assieme a lui, un allievo rimasto illeso nell'impatto. L'altro ferito si trovava a bordo del secondo ultraleggero ed è un cinquantenne di Sansepolcro che ha riportato ferita ad una mano. Ho detto soltanto che hanno urtato l'altro aereo e l'altro veicolo. Quello, il ferito più grave, aveva un istruttore, quindi era un esperto. Quindi sì, la frequentavano, erano in grado, sapevano quello che facevano. Sul fatto che sia verificato sulla pista di decollo dovranno far luce gli uomini della Polizia Stradale di Sansepolcro e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.